Un servizio di baby parking per i figli dei donatori di sangue a Verona è quanto hanno organizzato le associazioni dei donatori Avis, Asfa e Fidas con la cooperativa Cercate che gestisce il servizio all'interno dell'ospedale di Borgo Trento. All'interno dell'azienda ospedaliera da tempo abbiamo aderito al progetto di supporto educativo con questa iniziativa del Baby Confortini. Con questa iniziativa vogliamo agevolare i genitori nel tenere in ambito educativo i loro bambini nel momento in cui entrano in azienda. In base a questo accordo i genitori e i donatori potranno contare sull'appoggio di quattro educatrici coordinate da una responsabile ed il numero di bambini che potranno essere accolti nel medesimo momento non dovrà superare le dieci unità. Il personale è un personale educativo qualificato e anche esperto nell'ambito educativo e quindi si trova un servizio direi molto molto adeguato alle esigenze dei genitori. Abbiamo un personale qualificato di educatrici che accoglie i bambini all'interno del nostro servizio dal lunedì al sabato dalle 6.50 alle 20 di sera e invece la domenica su prenotazione. Diciamo che ci occupiamo di loro dal momento che entrano al momento che escono proponendo attività che non sono solo di gioco ma anche che sono laboratori veri e propri strutturati. Ogni mese vengono pensati dei laboratori che vengono proposti sia nella fascia mattutina sia nella fascia pomeridiana appunto per permettere a chiunque entri in qualsiasi momento della giornata di trovare qualche cosa di attività da fare. Da parte dell'associazione dei donatori è la soddisfazione per l'accordo raggiunto che agevola ancora di più gli associati. Quanto è importante mettere a disposizione di un donatore un servizio come questo proprio per agevolarlo nel suo atto di donare? Certo è importantissimo perché essenzialmente in questo periodo che siamo carenti di donazioni dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per dare ai nostri donatori la possibilità di poter andare a donare. Quindi se qualcuno ha il bambino arrivare qui e trovare un servizio ovviamente è una cosa che fa veramente piacere perché non hanno il problema di andare a dire dove è collo con il bambino eccetera eccetera e arrivano a fare la propria donazione. Siamo carenti quindi per tanto diciamo che sarà uno sviluppo anche per questo un'iniziativa che veramente è importante. Ringraziamo la cooperativa Cercate perché collaborano anche con noi per quanto riguarda la prenotazione dei donatori a Legnago.